lo studio dei tarocchi è sempre stato uno uno studio personale individuale un po perché è sempre stato legato a un ambiente diciamo guardato con sospetto quello esoterico un po perché in realtà poche persone in comparazione con ovviamente la totalità delle persone che stanno al mondo si approcciano al mondo esoterico ea quello dei tarocchi in particolare per questo motivo appunto è sempre stato lo studio di tarocchi un'attività fondamentalmente individuale quello che invece vorrei raccomandare oggi con questo video è appunto iniziare a studiare i tarocchi con altre persone con un compagno una compagna quindi a coppia o in un gruppo prima di iniziare però voglio presentarmi per chi non mi conosce sono aless dimenti taro sono una tarologa e una cartomante ma anche una coach specializzata in sviluppo intuitivo ovvero aiuto le persone a sviluppare padroneggiare le proprie doti intuitive in modo da poterlo utilizzare con efficacia nella propria quotidianità utilizzo varie pratiche spirituali ma soprattutto i tarocchi che consigliano uno strumento eccellente per aprire i canali intuitivi questa è mirra ha voluto partecipare oggi al video perché è una una bimba ancora giovane e ha bisogno di tanta compagnia quindi vela presento rimarrà con noi per la durata del video immagino dunque come ho detto appunto è sempre stata una pratica individuale però io veramente consiglio un approccio condiviso nello studio dei dei tarocchi quando ho iniziato io che era appunto l'epoca pre internet io mi ne sono approcciata che era il 93 quindi proprio internet era agli albori era molto difficile trovare persone interessate come me a questa materia e quindi ho dovuto studiare da sola questo ha portato diciamo a perdere molto tempo nella ricerca di libri di documenti di informazioni per appunto studiare i tarocchi e in generale come se io appunto dovessi studiare o come dire dialogare con me stessa per trovare appunto un riscontro ora la situazione è completamente diversa perché appunto attraverso internet da un lato i tarocchi sono diventati un pochino più popolari quindi meno legati a un ambiente esoterico vecchia maniera un po dark quindi è diventato appunto uno strumento anche di conoscenza psicologica di se stessi e sono nate varie comunità nei vari social che si possono appunto frequentare per migliorare la propria conoscenza dei tarocchi quindi diciamo internet ha avvantaggiato molto la condivisione di questa passione con altre persone quali sono secondo me i vantaggi di studiare insieme a un'altra persona addirittura un gruppo di persone i tarocchi innanzitutto è più divertente è meno pesante perché i tarocchi sono 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 tanti nel senso che innanzitutto sono 78 carte con vari significati è un sistema divinatorio ed esoterico complesso con vari livelli di lettura è difficile ricordarsi vari significati ed è difficile capirli perché anche uno strumento che ha del mistico per un certo verso quindi certi concetti non sono facilmente digeribili per se appunto non si non si è da tempo in questo ambito esoterico e spirituale quindi all'inizio per chi inizia a approcciarsi appunto ai tarocchi può ci si può sentire affaticati o comunque come se il compito davanti quello studio di tutte queste carte e del sistema di per sé sia eccessivo e ci voglia tanto tempo infatti molte persone mi chiedono quanto tempo ci vuole a studiare tarocchi eccetera beh il tempo come parlato in un altro video di cui posterò il link in realtà è relativo al numero di letture al numero di al tempo al numero di ore che si che si che si utilizzano per lo studio dei tarocchi e secondo me anche relativo a al fatto che si studino da soli o in compagnia perché appunto uno dei vantaggi dello studio dei tarocchi in compagnia è che ci vuole meno tempo per capire ed imparare il messaggio delle varie delle varie carte è più leggero il tempo che si spende che si passa insieme appunto nello studio dei tarocchi si riesce a approfondire meglio ea ricordare meglio appunto il significato delle varie carte quando si interagisce con altre persone si riesce a capire più come dire diventa anche un lavoro più creativo perché confrontarsi con altre persone permette vedere la carta da un punto di vista diverso si fa una specie di brainstorming che è un processo molto importante per migliorare la conoscenza di qualsiasi cosa e per creare un nuovo tipo di come dire approccio alle carte un approccio più creativo e poi leggendo le carte ad altre persone che magari si conoscono meno e facendosele leggere si capiscono si hanno degli scontri più reali sulla parte diciamo del divinatoria delle carte quindi permette la lettura reciproca di avere un riscontro efficace e reale dei significati appunto delle carte non diventa solo teorico però diventa pratico come come studio quindi io sinceramente vi consiglio di far parte di comunità anche online se non riuscite a trovare un gruppo nella vostra città che si incontra regolarmente quindi di approcciarsi anche a delle comunità online dove potete studiare insieme ad altre persone magari anche con incontri online direttamente e a cui potete leggere le carte e che vi possano leggere le carte però ecco ci sono alcuni consigli che voglio darvi nella scelta di questi di queste comunità online che mi sento di dovervi dare perché è importante scegliere le i gruppi le comunità che migliorino l'esperienza di studio ai tarocchi e non invece la rovinino perché se si entra in un ambiente che secondo me sono deleteri poi si associano i tarocchi a questo tipo di esperienza di atmosfera e quindi come dire si tarpano le ali del della persona dello studente fin fin dall'inizio innanzitutto bisogna stare attenti che sia un ambiente sereno e non tossico nel senso che appunto bisogna stare attenti che le persone siano educate che rispondano in maniera gentile che non ci siano grosse battaglie di diego che che si studiano i tarocchi anche per crescita personale non soltanto per sapere i fatti degli altri no a volte uno sono le persone sia alcune persone si approcciano i tarocchi perché hanno una specie di di modo di vedere cosa fa l'ex o insomma come cosa pensano le altre persone di noi eccetera eccetera secondo me queste sono domande sì per carità naturali ma insomma fatte una volta invece ci sono persone o comunità che si focalizzano su questo tipo di domande secondo me a parte che sono domande ripetitive e quindi alla fine non si imparano tanto i tarocchi in altri ambiti ma poi appunto diventa un ambiente un po un po tossico secondo me quindi attenzione all'atmosfera della comunità se appunto atmosfera serena che vuole la crescita degli studenti che vogliono la crescita che serva utilizzi i tarocchi anche per la crescita per personale puoi fare attenzione che non sia una comunità molto attaccata a tradizione questo è una cosa mia personale però secondo me effettivamente aiuta se la comunità è aperta alla innovazione all'interpretazione più intuitiva ovviamente perché io mi focalizzo molto sulla interpretazione intuitiva e che aiuti lo studente a conoscere ovviamente la filosofia e la tradizione relativa ai tarocchi ma che permetta anche un'espressione personale uno studio personale delle delle carte perché se entrate in una comunità dove l'approccio è così è e non ci sono cambiamenti così è e il resto è sbagliato secondo me è un'energia tossica per un certo verso perché questi queste persone diventano saccenti e soprattutto fanno da gatekeeper cioè guardiani delle porte sono quelli che come dire vogliono mantenere lo studio la conoscenza dei tarocchi limitato a poche persone non vogliono che altre persone imparino veramente a leggere i tarocchi per cui iniziano a fare tutto un lavaggio del cervello cioè comunque dando l'impressione sempre quando parlano che o bisogna avere una intuizione particolarmente sviluppata o bisogna essere nati con un talento particolare o bisogna studiare i tarocchi da decenni per poterli veramente utilizzare questi tipi di discorso che tarpano le ali al a chi inizia ad approcciarsi ai tarocchi in realtà non sono semplicemente la voce del loro ego che vuole difendersi da da nuove persone che si approcciano a appunto ai tarocchi vogliono mantenere la pratica riservata a pochi eletti per motivi che io personalmente non capisco quindi non saprei neanche spiegare però però così è quindi io starei attenta quando se entrate in una comunità se iniziate a vedere che l'approccio generale quello del seguire rigidamente delle regole e soprattutto non vi permettono di crescere come appunto cartomanti o tarologhi non vi non danno accesso a tutte le le conoscenze che loro hanno non si aprono a voi e danno un atteggiamento saccente un altro campanello l'allarme a cui fare attenzione secondo me quando trovate le comunità dove ci sono delle persone che vedono negatività per tutto cioè quando leggono le carte vedono sempre nemici falsità corna eccetera perché questo è un anche questo è un modo di vedere la vita che secondo me non aiuta la serenità interiore e secondo me dopo un po' insereste ad associare la lettura dei tarocchi a questo tipo di messaggi molto pesanti e molto negativi poi frequentare questo tipo di persone questo tipo di cartomanti influenza il vostro modo di vedere la vita quindi inizia dopo un po' se uno si fa influenzare a questo tipo di persone si comincia a vedere nemici a per tutto falsità da per tutto eccetera eccetera questi sono insomma campanelli di allarme quando si approcciano soprattutto ai comunità online perché comunità online sono appunto come ho detto molto utili però rispetto a quelle di fisiche diciamo con incontri dal vivo è più difficile fare una cernita iniziale quindi riassumendo quando approcciate una comunità online fate attenzione all'ambiente e ai vari campanelli di allarme di cui ho parlato prima di tutto se un ambiente tossico se è un ambiente rigidamente legato alle tradizioni oa presunte tradizioni a regole di lettura di interpretazione delle carte se c'è gente saccente comunque che fa da guardiana delle porte ovvero che non condivide tutte le informazioni con voi o che inizia a dire appunto che per veramente essere dei bravi tarologhi carto cartomanti bisogna studiare per anni oppure avere talenti particolari e ultimo campanello allarme evitate appunto delle comunità dove chi legge le carte vede negatività da per tutto io vi invito a questo punto a entrare nel mio gruppo facebook che si chiama risveglia la tua intuizione con i tarocchi dove appunto cerco di mantenere un'atmosfera serena dove tanti esercizi per migliorare la propria intuizione durante la lettura dei tarocchi e lì potete appunto esercitarvi con altre persone leggere le carte potete anche interagire e leggere carte gli uni agli altri appunto in un ambiente che io trovo sereno e rilassato e giocoso soprattutto cerco di creare non solo degli esercizi pesanti però proprio dei giochi in modo da poter passare il tempo in compagnia e imparare allo stesso tempo bene se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like a condividerlo con altre persone a cui può interessare e noi ci vediamo presto ciao